Cercherò di non portarvi via tanto tempo, io intervengo un po' a braccio così se mi perdessi cercate di rindicarvi la regola. Io faccio un discorso intanto generale perché dal mio punto di vista ad oggi viviamo a tutti gli effetti in una dittatura di natura economica cioè nel senso con un liberismo imperante come è difficile pensare di vivere nella casa, in qualsiasi cosa, nel lavoro cioè se guardiamo all'iberismo di oggi mi posso dire che paradossalmente è superiore a Dio in questo senso se c'è di persone in una stanza, c'è chi ci crede a un'entità superiore e c'è chi non ci crede ma invece se in una solita stanza mette le solite 100 persone e gli visci, gli chiedi qual è il sistema economico che deve esserci è solo quello, quello attuale. Cioè non viene posto che posta che solo la possibilità che ci sia un'alternativa e se chi la pone, cioè è una mera minoranza. Questo è il paradosso in cui siamo ed è anche il paradosso che non permette molte volte, cioè non permette in nessuna maniera un'alternativa cioè un'alternativa. Non solo, è un sistema che usa molte volte strumenti molto fini, cioè un sistema che riesce a stare in piedi da sé perché? Perché da una parte necessita di schiavi, gli schiavi intendo cari sul lavoro, cari della casa persone che in un modo o in un altro devono bussare alla porta del potere, cioè non sono persone libere, indipendenti economicamente o che hanno diritti, sono persone che dipendono da qualcuno e questo fa comodo al potere stesso perché? Perché se io ho uno che ha bisogno di me per avere un sussidio, se io ho bisogno di uno di me che ha bisogno di me perché deve avere quell'alloggio anche per un mese, dipende da me e allora è una persona fragile una persona debole. Se ovviamente noi siamo nel campo della casa, però se immaginate anche nel campo del lavoro a tutti i contratti più assurdi che vedete nel campo del lavoro, a tutte le condizioni che la gente subisce le subisce in una maniera tale in cui il datore di lavoro quasi dovresti ringraziarlo perché viene detto meno male tu c'hai il lavoro. Questa ecco perché dico è un vero e proprio sistema, non solo, la paura stessa che viene usata, la paura di un diverso, dell'altro, in cui si accusa come anche ha fatto il presidente Massimo in cui si dice guarda la casa popolare non ce l'hai perché c'è quello di un'altra nazionalità, perché c'è quello che ha una pelle più scura di te eccetera eccetera, non per dire ad esempio tutti i soldi che vengono buttati via non per gli interessi di Tizio, Caio, Sempronio eccetera eccetera, proprio in una logica invece di cercare di distogliere l'attenzione e che dà una situazione che dà ovviamente, non permette ad oggi, almeno di un punto di vista un'altra domanda. Detto questo, c'è oltretutto, io sarebbe, secondo me, una frase che è difficile se non sbaglio che io mi tenevo sempre anni fa in camera, che diceva sempre che non c'è più, non c'è più schiavo di colui che contiene di essere vivo senza esserlo. Ed è la situazione di adesso perché si dichiarano i diritti di tutti i generi, si dichiarano, però poi non sono attuali. Questo era il perché. Detto questo, io vorrei fare, ora non c'è esportunatamente Barachini e io non mi posso permettere di vingarmi sulla storia dell'Unione Inquiline, che anzi mi ha mandato pure qualche documento e tutto, ma non lo faccio però, perché quando Barachini iniziava a fare l'Unione Inquiline, al massimo andava fin da scelta, così non lo farò. Una cosa però la voglio sottolineare, all'interno dell'Unione Inquiline, che storicamente nasce come il movimento dell'evoluzione, penso che siate tutti d'accordo, però negli anni e all'interno, dal mio punto di vista, all'interno dell'Unione Inquiline ci sono ancora due anime, un'anima che se si vuole ancora rivoluzionare e un'anima che forse tende a istituzionalizzarsi, in questo senso, perché un conto è la lotta, un conto è le varie consulenze, assistenza, assistenzialismo, qualche volta che facciamo, qualche volta siamo anche costretti a farlo, perché aiutiamo una persona che ha lo sfratto dall'ufficiale giudiziario sotto casa e lo facciamo non tanto qualche volta per quella persona, ma per combattere per il diritto alla casa. Dall'altra però facciamo assistenza, questo vi dico perché, perché si deve stare attenti a questo secondo aspetto, perché non dobbiamo diventare soltanto di sportelli di consulenza o di istituzionalizzarci, perché? Perché nel momento in cui siamo solo attivisti da un conto, è vero che è difficile fare gli attivisti, perché c'hai qualche volta da pagare la sette, c'hai da pagare con l'etro, c'hai queste sciocchezzuole diciamo, e se lo fai l'attivismo molti volte lo fai proprio di spirito, di libertà, invece il problema è quando inizia a diventare qualcosa di più, nel senso, apri lo sportello, il caffa, apri lo scuro, lo sportello di questo, di quest'altro, riesci anche non solo a pagarti il bollente d'affitto, ma ti riesci a mettere un dipendente, c'è una persona, a pagare una persona, si deve stare attento a questa seconda cosa, perché alla fine rischi di diventarlo dipendente, diventarlo dipendente, perché la cosa che alla fine è, l'hai creata e da restare in pieno, è reggersi, alla fine alcuno, se prendi uno, è vagato, cioè tanto per intendersi, cioè io faccio, c'è una bellissima frase di Hegel che è il paradosso del signore del serbo, cioè che praticamente Hegel sosteneva che il signore, usando sempre il serbo, alla fine diventava serbo lui stesso, perché non dipendeva, dobbiamo stare attenti a questo passaggio, perché sennò si rischia di snaturare l'Unione Quirini, cioè solo d'accordissimo che occorre degli ingressi per pagarsi la bolletta, cioè la bolletta, la sede e tutto, però bisogna stare attenti a non istituzionalizzarsi e andare l'altra cosa, altre cose, poi cerco di vedere velocemente, gli sternofili che viva, allora a me mi sono piaciuti molto gli eventi di Petruzzi e di Rizzo, sui piani regolatori, ma anche di Massimo, perché effettivamente oggigiorno non si può più parlare della casa, quando si guarda una città, piccola o grande che sia, bisogna pensare a un piano, cioè a eliminare o anche cercare di controllare gli interessi forti e in qualche modo riprogettare, perché le città che si oggettano, cioè si pensano in una certa maniera. Poi, un'altra, un'altra cosa è chiudo, allora, il caso che è successo a Cesare, ma anche è successo a Michelangelo, ci portano l'attenzione su nuovi strumenti di repressione, perché la repressione contro gli oppositori, di fatto noi siamo oppositori, cioè io, come si direbbe Sicilia, che è, penso, un complimento, noi molti di noi siamo scassamichia, cioè, che è, diciamo, penso che è ben indicato che è anche una cosa di pregio, perché se uno rompe le scatole, ma che lo fa, non per interesse, lo fa per giustizia, cioè a me si mi chiamano scassamichia, sono contento e lo sanno molti comuni, posso dire, un po' con il tempo non ben riuscito a fare come facevo prima, però molti dei sindaci, insomma, lo sanno che quando mi muovo altro, cioè, sanno che, diciamo, non cosa succede, però stanno sempre attenti, e ne sono veramente orgoglioso di questo, però detto tutto questo, oltre di scassamichia, cioè, ci sono vari sistemi, cioè, nel senso, per opporsi, lo sputtani, scusate la finezza terminologica, io lo aspetto sotto casa, e arrivo con il capricciato di dare un mazzate, gli mando la polizia, eccetera, eccetera, ma qualche volta, chi lo fa, è vestito con già che crevatta, e fa l'avvocato, come è successo nel caso di Cesar, ma nel caso di Michelangelo, e vorrei chiedere a qualcuno altro se è di noi presente, perché io ho presente questi due casi, ma certamente ce ne sono molti, allora la mia idea era questa, di, e lo dirò perché la stavo scrivendo, non ho mai riuscito a finirla, però, di presentare un giorno, una mozione, impegnando la futura segreteria, e verrà domani, a muoversi, a trovare i membri dell'unione inquilini, che venissero, diciamo, aggrediti da denunce, o altre, diciamo, o altre situazioni, in una logica di questo genere, che quello che fanno a uno, lo fanno a tutti, cioè, la mia logica è questo, e anche se lo fanno a uno, se ne beccano la risposta di tutti, questo è il mio punto. Pronto, mi do le cose e chiudo veramente, perché questo è il nostro, allora, sono contento che Massimo abbia scelto di dare una segreteria estesa, almeno l'abbia proposta, una segreteria estesa, perché, parliamoci francamente, noi siamo un'organizzazione che ha un città di euro 400, quant'è che sei, però siamo gesti tosta e litigosa, e con ognuno ha la pensi mariale diverso, e l'idea di una segreteria estesa, secondo me, è molto intelligente, molto pragmatica, perché? Perché tende a assorbire tutti gli animi, a tenere insieme, soprattutto in un periodo come adesso, che è un periodo di attacco, qui siamo in un periodo, facevano presente la sinistra che crolla o altro, qualsiasi altra cosa, però noi siamo, non perché siamo deboli noi, ma perché siamo in una congiuntura politica, economica, quello che ti pare, ma che è veramente pericolosa, insomma, dobbiamo stare a te. E questa è un'ultima cosa, però, io non sono d'accordo, e lo dico subito, col fatto che dovesse, come proposta avanzata, che dovresse essere presente alle segreterie dell'Unione, cioè nella segreteria nazionale, un rappresentante della CUP, ora mi dispiace, non so se ci sono ancora i rappresentanti, però io solo ora sono riuscito a intervenire, cioè nel senso, nella lista di interventi. Questo non peraltro, ma perché sono fiero dell'Unione Inquilini nelle indipendenze e nell'autonomia che ho, non perché mi viene ovviamente quello della CUP come anche invitato, però preferisco, se devo dialogare con la CUP, se devo dialogare con un tizio, Caglio Semprone, preferisco farlo dall'esterno, cioè nel senso proprio per un fatto di indipendenza, cioè di fatto che io dialogo con tutti. Io ve lo dico francamente, e prendetela così, dialogherei anche con Satana in persona per andare a difendere il diritto alla casa, così c'è quello che non mi piace sinceramente avere in casa, cioè è solo questo. Buongiorno, buongiorno. tre anni fa partecipavo al mio primo congresso nazionale di Unione Inquilini e riuscivo a capire per la prima volta cos'è Unione Inquilini. In questo congresso non solo avevo confermate le mie impressioni di tre anni fa, ma riesco a capire che c'è un'involuzione in atto, c'è un processo che sta producendo anche delle novità, nuove leve, giovani e anche una consapevolezza diffusa della fase, di quanto è difficile affrontare questa fase, ma anche delle risorse che abbiamo a disposizione al nostro interno, pur essendo un piccolo sindacato, un sindacato capace di interpacciarsi con tanti soggetti nei territori, non solo con le istituzioni, ma anche con chi le lotte le costruisce, auto-organizzandosi, rapportandosi a noi e rapportandosi anche ad altri sindacati che fanno quello che facciamo in maniera differente. Questo è un elemento di forte dinamicità, bisogna continuare a investire in passi. Anche il congresso di Milano è stato un congresso partecipato, sono emerse proposte, il mio tentativo di dare una risposta innanzitutto alla minaccia pericolosa in nuova partita e a Milano, che è la nuova legge regionale, ma poi anche a tutto questo apparato repressivo che si sta scatenando contro chi lotta per la casa, chi lotta per il diritto elementare. Mi vengono in mente le parole di una straiscrita che sentivamo da anni anni, nel mio quartiere Giappellino-Lorenteggio, che mi telefono in lacrime dicendo io lo sai sono sotto processo, Giovanni, e due settimane fa all'udienza il PM chiede un anno di carcere, questa donna ha occupato con tre minori, 4-5 anni fa, 2013, una casa che è adesso gestita da M.M., una casa di proprietà del comune, e M.M. chiede 80.000 euro di danni a una persona che guadagna sia no 1.000 euro al mese, lavora dignitosamente, onestamente, e che ha affrontato tutta la sedia di potere, quindi la fare è affrontata tutta la sedia di potere, con oggi, con oggi, con oggi, come lei tante altre storie che non vengono fuori, che non vengono a gallare. Questa è la realtà oggi, cioè noi ci troviamo di fronte a un potere, a una magistratura prima, il capo che parlava del Presidente del Taro, che non solo è insensibile, ma è proprio in vero città contro i poveri, soprattutto se un povero cerca di ribaltare, e di dire che esisto anche io, ho un diritto, bisogna ribaltare questa situazione, che è chiaro, non si ribalta, non si ribalta semplicemente con di te, con le lotte, ma si deve ribaltare da un punto di vista culturale, noi dobbiamo fare un'offensiva, l'unica offensiva che possiamo fare un'offensiva culturale e anche ideologico, questo termine è spesso distrattato, perché questo neoliderismo qua, c'ha proprio la volontà di uccidere le persone, di massacrarle, è un nemico dell'umanità, è chiaro che è un volto del capitale, è un volto più feroce del capitale, e dobbiamo usare le parole con il loro vero senso, il loro vero significato, quando parliamo con i poveri o con i lavoratori che non hanno alcuna consapevolezza politica di quello che gli sta succedendo, dobbiamo cominciare a usare questa idea, chiamare il nemico con il suo vero nome. Mi vengono in mente le storie di questi lavoratori morti nelle ultime settimane, gli infortuni sul lavoro che crescono, anche lì quello che mi colpisce, mi fa stringere il cuore è la solitudine di queste persone, l'accettazione passiva di una cosa che sembra ineluttabile, cioè io vado a lavorare e può essere che tu torni a casa dalla mia famiglia, muoio sul lavoro ed è una cosa normale, vengo sfrattato, perdo la casa, finisco in mezzo alla strada ed è una cosa normale, questo sta diventando una cosa normale, questo fatto qua, poi i giornali, i tre giornali ne parlano, uno, due, tre giorni, poi intanto c'è il prossimo morto, il prossimo sfrattato, il prossimo licenziato ed è una cosa normale, non è una cosa normale, non è una cosa normale, non è un paese normale e chi oggi parla di governo del cambiamento e che questa è la volontà dei cittadini eccetera e si riempie la bocca di queste parole, io vi porterei davanti queste situazioni qua e chiederesti signori, cosa intendete fare per dare una vita normale a queste persone che non ce l'hanno una vita normale, oggi lavorare uccide, non hai diritto a una casa, se non guadagni almeno 1.500 o 2.000 euro al mese non hai diritto a una casa, se andiamo a vedere le statistiche in Italia, quanti pensionati superano la città di 1.500 euro, quanti salariati superano la città di 1.500 euro, più del 50% della popolazione non si trova stasera, quindi vuol dire che lì c'è una condizione di rischio povertà e di, come dire, anche di vera e propria indigenza, quando tu perdi, appena perdi un posto di lavoro, al giro di 1-2 anni, esauriti gli ammortizzatori sociali, ti ritrovi col culo letteralmente per terra e non ci sono politiche abitative degne di questo nome, da nessuna parte, da nessuna parte. A Milano, è stato detto più volte, ci sono 10.000 alloggi spinti, un quarto praticamente, un quinto degli alloggi spinti a livello nazionale, è una cosa enorme. La Lombardia e Milano in particolare sono proprio in cima a questa lista e io penso che dobbiamo tornare a Milano con, anche con questa parola, basta alloggi spinti e basta venditi all'astra e all'ordine, quella è nata per voi, no? La proposta dei bandi popolari, qualsiasi proposta, una forma di lotta che possa mettere in luce queste contraddizioni che la nostra è praticata e non solo comunione, quindi dobbiamo essere capaci, io credo, e non ce l'abbiamo a questa cosa, di proporre agli altri, soprattutto a chi vive il problema della mancanza di una casa, le famiglie graduatorie, i comitati, le persone che si auto-organizzano, eccetera, o che vivono in una situazione di farla insieme questa campagna, contro gli alloggi spinti e contro la vendita degli alloggi al vasto. Perché? Perché in cui parla chiaro, non direi che sto arrivando a Milano, comunque 15.000 famiglie in graduatoria e tutto quello che è successo negli ultimi anni, le deroghe che sono state approvide, eccetera, non ci sono più canali per riuscire in qualche modo a graduare gli sfratti, ad arrivare a soluzioni che non siano, una famiglia buttata in mezzo a una strada o nelle migliori delle ipotesi, nella migliori delle ipotesi, la famiglia che è riuscita in una comunità, e sappiamo come va a finire, in un caso di famiglie che si separano, magari che vogliono, si perdono di vista, eccetera, eccetera, e tutto quello che ne consegue sulla pelle dei fili di noi. Io concludo e voglio parlare un attimino anche del tema delle risorse, è stato scritto questo documento, tutto quello che si può dire sul tema delle risorse, ma anche qui penso che bisogna fare di più, bisogna costruire una campagna nazionale per dire dove sono le risorse e a chi bisogna prenderle. In questo Paese è vietato a parlare di patrimoniali, è vietato a parlare di quanto guadagna la rendita, e si è detto prima, di diversi interventi l'hanno detto. Dovremmo cominciare a dare i numeri in questo senso, e a dire che se ci deve essere un cambiamento in questo Paese non deve andare nella direzione di ridurre le tasse ai ricchi, la flat tax, la tassa piatta, ma deve andare nella direzione esattamente opposta, quello sì che sarebbe un cambiamento. E vorrebbe dire eliminare la cedolare secca, prendere le risorse da un per cento più ricco e destinarlo sì a un fondo per le politiche liberali, piano casa nazionale. Piano casa nazionale che significa un milione di alloggi popolari in Italia. Anche Corwin in Inghilterra dice la stessa cosa, un milione di alloggi popolari, e questo verrebbe sicuramente accolto da certi soggetti come un milione di alloggi popolari, maledizia, pubblica, conserva, maledizia, eccetera. E non è così invece, sappiamo esattamente che è il contrario, la verità è che le politiche di privatizzazione e di liberalizzazione sono a 20 anni distanza dalla legge 4.3.98, i risultati sono sotto gli occhi dei frutti. Ci stanno centinaia di migliaia di famiglie in Italia che vivono in pieno nel disagio abitativo e almeno un milione e mezzo di famiglie che sono lì per scegliere se pagare l'affitto o fare la spesa e via la tabella così insomma. Quindi a fronte di una situazione del genere c'è bisogno di più unioni inquilini. Ultima cosa, a proposito del rapporto di chiacchia con il lavoro, io non sono solo favorevole, sono favorevole come alla presenza della comunità ma oltre a questo io lo sono perché in ogni mobilitazione e lotta che si fa sul territorio come CUB, io sono iscritto tra l'altro alla CUB, ci sia l'appoggio e il sostegno attivo da parte dei militanti dell'Unione inquilini e viceversa. Cioè quello che si faceva 50 anni fa a partire dai consigli di fabbrica, poi le lotte rimano portate nel quartiere, bisognerebbe tornare a farlo, cioè costruire un'unità profonda tra lavoratori e abitanti che lottano per il diritto all'abitare, che in fondo sono le stesse persone, quelle stesse persone licenziate, quelle stesse persone che muoiono sul posto di lavoro, sono poi le stesse persone che vengono sfrattate e persecutate dai tribunali. Dobbiamo ricostruire unità dal basso dei centri popolari, ricostruire col blocco sociale che le politiche negli ultimi 30-40 anni hanno fra i tuoi umani. Grazie. Allora, Paolo De Metta dei blocchi precari metropolitani, si prepari poi Guido Lanciano. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, noi di solito non attraversiamo congressi, però credo che siamo in una fase, in cui bisogna dirci alcune cose. Siamo venuti oggi perché ieri abbiamo fatto, riteniamo, un'importante assemblea a Roma con la partecipazione di un mondo molto largo, così come veniva richiamata la necessità di costruire un meccanismo più largo che non abbia l'autosufficienza di questa o quella realtà come punto di ripartenza, ma provi a ragionare su un allargamento necessario. Perché? Perché noi stiamo cominciando a pensare in maniera molto seria che non riusciamo, nessuno ci sta riuscendo, a rompere il furto di parole che stanno producendosi nei confronti delle lotte. A Roma per esempio si sta utilizzando il termine fragilità per sostituirlo ufficialmente al termine diritto di persone che hanno un reddito non sufficiente per garantirsi un affitto o un mutuo e credo che il contratto che Salvini e Di Maio stanno sottoscrivendo va esattamente in questa direzione quando afferma che la situazione di reddito difficile, l'insufficienza di reddito non è giustificazione per azioni come quello di un'occupazione di un alloggio e per cui bisognerà intervenire nei confronti anche degli alloggi e degli stabili occupati per risolvere questa questione. Per cui stanno provando a scrivere parole nuove per cancellare diritti. La stessa cosa sta facendo credo la sindaca di Roma e forse è una cosa che faranno altri sindaci in giro per l'Italia ha aderito il 17 di ottobre alla giornata per l'eliminazione della povertà, la giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Non so chi è di Roma che sta qui, qualcuno lo so, però non so quanti sono io penso che la Raggi non abbia fatto niente per l'eliminazione della povertà nella nostra città da quanto governo però ha aderito alla giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Addirittura c'è stata una mozione presentata in Consiglio Comunale di adesione all'anagrafe antifascista. Beh, l'articolo 5 della legge Lupi è la cosa più fascista che c'è dentro la gestione delle politiche abitative dentro questo paese. Un articolo che è stato contro il quale il Movimento 5 Stelle ha votato beh, non c'è amministrazione e non c'è nemmeno l'amministrazione di Raggi che è stata capace di non usarlo. A tuttora viene utilizzato l'articolo 5 che impedisce alle famiglie che hanno occupato di avere la residenza di poter accedere a diritti primari come quelli che si accede con la residenza. Per cui si sta provando ad escludere una fetta enorme di società ed anche attaccare in maniera aggressiva quella parte di società che si è organizzata, che ha provato a trovare da sola delle risposte, che ha deciso di, con dignità, risolvere la propria condizione economica e di senza casa. Come la affrontiamo in questa situazione qui senza chiuderci dentro una dinamica di autosufficienza o di autoreferenzialità? Provando a costruire i passaggi in avanti e credo che per gli interventi che ho ascoltato fino a questo momento mi sembra che ci sia lo spazio per lavorare in questa direzione ed è per questo motivo che noi stiamo da tempo anche a Roma provando a lavorare su quello che chiamiamo aggregato anomalo che mette insieme magari i sindacati come l'Unione Inquilini, il Sunia, magari è più semplice forse questo, ma con i movimenti di lotta per la casa che magari non hanno mai avuto una vita regolare nella relazione con il sindacalismo, anche con quello conflittuale. Questo aggregato anomalo invece credo che sia necessario costruirlo addirittura a livello nazionale. Bisognerebbe avere la capacità di mettere insieme esperienze che forse sono anche criticabili sul piano della legalità che noi rappresentiamo indegnamente con decidi di stabili occupati a Roma e faremo i conti probabilmente con questo nuovo governo in maniera seria se vorranno arrivare alla resa dei conti contro questa esperienza. Non ci sono alloggi popolari all'orizzonte perché li vediamo, non si stanno realizzando, non ci sono piani di edilizia asistenziale pubblica subvenzionata, li stanno cancellando sostanzialmente, per cui noi stiamo pensando che bisogna rimanere dove stiamo e forse bisogna cominciare ad andare anche dove non ci siamo ancora andati. È molto interessante quel ragionamento che si fa sulle graduatorie, no? Si parlava della graduatoria di Milano, Roma, finisco, Roma aveva 35.000 famiglie in graduatoria, quella graduatoria è stata cancellata e ripartita e adesso dopo sei anni siamo già di nuovo a 13.000 famiglie in attesa a fronte di 400 alloggi che vengono assegnati annualmente con un numero di sfrattati che è superiore al numero degli alloggi che vengono assegnati, per cui non avendo case popolari all'orizzonte, ma avendo anche tante case vuote, bisogna cominciare a ragionare insieme come questo aggregato anomalo sia in grado di riconquistare queste case e di rimetterle di nuovo non sul mercato, ma dentro una dinamica di diritto che dobbiamo affermare e chiaramente noi non saremo in grado di farlo da soli, non è in grado di farlo da soli non inquilini, non è in grado di farlo da solo nessuno. Questa battaglia con un governo così come si sta dimensionando o si va tutti insieme oppure un po' paraprasando frasi più importanti o si vince o si muore, nel senso che la dinamica che si sta producendo dentro il paese e chiudo su questo, sta cercando dei nemici. I nemici sono i Rom, i migranti e i poveri. La dinamica di contratto che c'è adesso in fase di stipulazione cancella alcuni diritti fondamentali della popolazione migrante, li mette dentro meccanismi di annualità di residenza dentro questo paese, addirittura introduce il meccanismo se hai occupato e non sei un migrante regolare, ti espelliamo immediatamente. C'è una dinamica di accanimento che non riguarda i migranti, che riguarda la povertà. I poveri sono colpevoli di essere poveri e in quanto tali vanno colpiti. E quel passaggio che riguarda, che non è giustificato sostanzialmente occupare se non hai soldi, è proprio il nodo. Perché cosa dicono? Non hai voluto trovare una soluzione sostanzialmente, non ti sei impegnato abbastanza per trovare una soluzione. La stessa cosa che dicono quando non trovi un lavoro, quando non accetti magari un lavoro precario. Io penso che questa battaglia è la nostra battaglia, è una battaglia comune. Noi abbiamo una composizione sociale largamente meticcia, per cui bisogna anche finirla con una dimensione in cui si difendono sostanzialmente gli inquilini bianchi perché votano e credo che qualche sindacato questo errore lo faccia in relazione alle forze politiche ai quali è legato o comunque guarda. E bisogna immaginare un fronte che invece sia un fronte capace di rompere lo schema che si è prodotto. Questo è accaduto dentro il comparto della logistica e dentro il meccanismo della casa ha la forza e la potenza per non cadere dentro questa trappola. Ecco, io credo che noi dobbiamo ragionare anche dal punto di vista culturale su come realizzare un passaggio di questa natura. Forse quella data del 17 di ottobre, giornata per la eliminazione della povertà, può diventare anche un orizzonte sul quale ragionare tutti insieme. Allora, io se è possibile chiedere la presenza, siccome faccio l'intervento come tesoriere e poi come delegato. Se sforo qualche minuto in più, intanto come tesoriere vedrò quando sarete dormendo tutti quanti, smetto di... però è anche, credo che sia non solo necessario ma anche... a domani, a domani, a domani, a domani cantina, a bello, a se la devo fare domani non faccio fumare. È benissimo, perfetto. Allora, solo come... Allora, io, diciamo, parto da un... infatti, deriva parzialmente, direttamente, diciamo, il collegamento tra il bilancio e l'intervento. In questa sede ci sono... in questo congresso ci sono tante sedi molto differenti della di l'intervento e sì, io lo vedo dal bilancio che presenta, perché il bilancio dice tante cose delle sedi. E questo è, secondo me, anche una forza nostra, proprio perché siamo molto differenti su come... ci sono alcuni che lavorano solo sulle case popolari, anche all'interno, per esempio, di Roma. Ci abbiamo diverse serie periferiche che sono molto diverse da loro. Ci sono alcuni che lavorano solo sulle case popolari, altri che lavorano invece quasi esclusivamente nel privato. E lo stesso è qui. E questo è, secondo me, un forte... per noi è veramente molto positivo, perché ci fa capire che nel sindacato poi ci stanno invece le situazioni, ci stanno tante, tante di vernicchissime modi di fare sindacato. da qualche anno c'è anche... prima eravamo tutti e solo volontari. Da qualche anno si è iniziato, io l'ho visto dai bilanci, a mettere un po' più di rimborsi spese e sapete quanto io, appunto, poi rimane, mi avverrò, insomma, quanto sono contrario, però invece c'è anche finalmente che abbiamo messo delle sedi, hanno messo dei dipendenti fissi, cosa che naturalmente è assolutamente possibile, perché pur essendo una cosa di volontariato, però abbiamo anche due sedi che hanno due sedi, però comunque ci sono le sedi con i dipendenti. Questo non vuol dire senaturare il volontariato, assolutamente, ma invece può essere anche un... visto che i giovani hanno più difficoltà, perché c'è oggettivamente più difficoltà per i giovani di fare volontariato, questo può essere invece un incendio, però assolutamente siamo attenti a non modificare l'essenza del sindacato che deve rimanere di volontariato. Sempre invece, visto quanti siamo, siamo più o meno sempre 111, il numero di quest'anno 111, l'altro anno 108, insomma siamo molto simili, però io credo che la qualità degli interventi quest'anno è stata nettamente, proprio si è sentito l'essenza, cioè che siamo un sindacato, mentre gli altri anni in molti casi si parlava del proprio problemino della sede, abbiamo fatto nettamente un passo in avanti e tutti quanti gli interventi cercavano di partire dalla propria situazione per allargare, per dire quali possono essere le soluzioni più vaste e questo è secondo me un passaggio molto importante. Un problema, in molti interventi è stato detto, ancora non sappiamo qual è il contratto che faranno Salvini e Di Maio, però nelle pozze, se quello richiede, nelle pozze non c'è nulla sulla casa tranne questo problema assurdo, l'unico problema della casa sarebbero che ci stanno qualche migliaia di occupanti abusivi tra le case popolari e l'immobile, adesso francamente io nel mio congresso di Roma ho detto chiaramente che per noi i 100 appartamenti che secondo loro sarebbero l'illegalità a Roma, cioè l'illegalità perché ci sono 100 appartamenti, non è certo quella, la vera illegalità sono i mille appartamenti, i mobili, i mobili, i mobili vuoti, avere legalità sono il fatto che è possibile quindi è quello per noi il vero problema. Non credo, non è che chiedevo che ci fosse scritto questo naturalmente nel contratto, ma veramente non c'è nulla su urbanistica, nulla su che cosa vuol dire avere una prospettiva sul problema dell'abitare in Italia. quindi sicuramente saranno momenti molto duri e quello che stiamo tentando di fare a Roma, quello che in molti di questi interventi è stato chiesto, una programmazione di una forte mobilitazione per i primi mesi, i primi giorni dopo l'estate, sicuramente la dobbiamo mettere in campo perché sarà necessario per capire che cosa vuol dire il diritto all'abitare se questo nasce. L'ultimo problema su cui vi volevo centrare l'attenzione, anche qui dovremmo fare un'analisi, è il fatto che l'housing sociale sia stato inserito nelle materie del terzo settore. Questo vuol dire che Milano ce lo insegna, la Lombardia ce lo insegna, e cioè che loro vorranno molto probabilmente esternalizzare anche le case popolari e darle al terzo settore, cosa che appunto sta avvenendo, ce l'hanno raccontato già da qualche congresso di Milano e questo è quello che avverrà. E quindi noi dobbiamo capire che cosa vuol dire che abbiamo inserito come materia di cui si possono occupare, come se fosse l'housing sociale, come la bellezza, queste altre che sono le altre materie classiche della cultura, c'è le cose teoriche, di questo si occupa di solito l'housing sociale. Invece mettendolo come terzo settore appunto da una parte si dice che è assistenzialismo, solo l'assistenza, ma dall'altro si dà la possibilità di subappaltare a quelli che in molti casi sono invece le vere e proprie società che speculano su questo. Quindi è un qualche cosa secondo me su cui noi dobbiamo approfondire e capire che cosa vuol dire anche questo, che non porti lo smantellamento totale dell'azienda inizia pubblica. Grazie. 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 Allora, buonasera a tutti. Voce, non si sente niente. Mi sentite? Adesso? Un piccolo documento in rappresentanza del residente sociale a 1227x1 da leggere. Ormai da oltre 4 anni vi invio il progetto a 1227x1, formato da RRCA, un'unica di Milano per scelta alla risposta e con il fatto di vita alla casa, in guarda. Dopo lo sbombro scudito a Sesto San Giovanni ci siamo spostati a Milano, dove però stiamo normalmente sotto il sbombro. Ad oggi, dopo diversi scambi di mili con le istituzioni e grazie al presidio del 26 aprile, siamo riusciti ad aprire un tavolo istituzionale, in trattativa, o almeno semplerebbe. Come già detto da prima, il Comune di Milano è in grossa difficoltà ad affrontare l'attuale emergenza abitativa, ma semplerebbe che il problema vero siamo noi e la chiusura del nostro progetto. Nei prossimi giorni partirà un censimento degli abitanti e ci è stato richiesto di non fare i nuovi investi, proposta che noi non abbiamo chiuso in considerazione. Nel corso di questi anni, il numero delle assegnazioni, parlo di assegnazioni dei nuovi che vivono la residence, superano i cento numeri. Manteniamo sempre una media di ospiti a partire dai 170 alle 200 persone, famiglie, magari famiglie, persone. Questi numeri creano un risparmio per il Comune di Milano di circa 5 milioni di euro a anno, a differenza del Comune abbiamo mantenuto i nuclei comuni e non siamo costati nulla alla collettività, in quanto siamo totalmente autofinanziati. Altro problema è l'intensa dell'energia elettrica, perché come sapete noi abbiamo un regolare contratto per essere un'occupazione. A2A, che è una partecipata del Comune di Milano, ci ha richiesto delle bollette esorbitanti, parliamo bollette che sono arrivate addirittura di 27 mila euro, 13 mila euro, 8 mila euro, quindi non è che parliamo di bollettine così. Si usa minimamente riconoscere l'importanza sociale del progetto. Noi comunque abbiamo versato e continuiamo a versare una quota mensile ritenuta dal collettivo di gestione più che equa. Nelle prossime settimane proseguirà la trattativa con il Comune. Il nostro scopo non è solo garantire soluzioni di ritorno per tutti gli abitanti, non è solo garantire la continuità e l'esperienza del testo iniziale, ma è anche quello di continuare ad essere una spina nel fianco del Comune, su un tema in cui il Comune è gravemente inadempiente, quello della gestione dell'emergenza abitativa e dell'accoglienza temporanea. Adesso vorrei aggiungere due cose. Sgombro di Sesto, noi siamo stati sgomberati da Sesto San Giovanni, ad oggi, sono passati oramai quasi due anni, ad oggi lo stabile continua ad essere chiuso e con la luce accesa. Quindi con lo stabile e gli scaldamenti che vanno, con lo stabile sta costando alla collettività e non serviva a nessuno. Siamo stati assorti, parlavamo prima della denuncia, poi è ovvio, ogni occupazione è una denuncia che fondamentalmente ci prendiamo gli Evainer. Per Sesto San Giovanni era stato rinviato a giudizio Evainer, è stato assorto, ma in prima utenza è proprio stato chiuso, proprio perché è stato riconosciuto lo stato di necessità. L'ultima cosa che vorrei precisare sulla comprensione di Via Olio, che ad oggi ci hanno richiesto questo nuovo censimento, che ne faremo ma ne abbiamo già presentato in un anno novembre, quindi è insomma un po' una presa in giro. Ma ancora ad oggi i servizi sociali ci chiamano e ci chiedono di ospitare le persone che abbiamo gestito l'emergenza a freddo per il Comune di Milano completamente gratis e senza chiedere niente a nessuno. Quindi da una parte ci sono come sempre, io lo ribellisco sempre, le istituzioni che comunque utilizzano la nostra struttura, ma fondamentalmente l'unica parola che mi fa paura è la parola occupazione, ma per tutto il resto noi siamo legittimati e ci sentiamo legittimati. E lo ripeto sempre che se essere delinquenti vuol dire aver fatto quello che abbiamo fatto e non sono fiera. Mi riallaccio un attimino, proprio per ultimo, proprio all'intervento che ha fatto del buio, in quanto fondamentalmente ci raggiungiamo a piedi e quindi la situazione, bene o male, è la stessa. E loro non è che vivono la nostra stessa legge regionale, che vivono il nostro stesso tipo di sgombro con uno spazio che non è messo all'asta, comunque vivono le stesse situazioni, però anche loro in parte sono stati legittimati e questa è la cosa più, la mia rivoletta è più scattavosa. Grazie a tutti. Grazie. 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 Parlate più vicino al microfono, se no qua giù non arriva niente. poca la mia esperienza in questo campo, uno dei primi interventi che abbiamo fatto a Padova con Cesare è stato aiutare una signora di origine algerina che aveva un'esecuzione immobiliare durante l'ignoramento di unicredit che poi i crediti ceduti e l'NPL eravamo già in fase di accesso del custode giudiziario che sappiamo in base alla legge del 2005 poi può concedere direttamente con la forza pubblica, a differenza degli sfratti, e liberare l'immobile in modo che venga venduto il prezzo che si spera migliore come il libero. Quella è stata l'occasione che ha dato luogo, non so se sono io che sforzo, ma l'incriminazione di Cesare Rottolini per violenza privata. Ieri sera parlando con Cesare di questa vicenda gli ho detto al processo ci dobbiamo divertire ma lo dico convinto perché ha degli aspetti paradossali secondo me questa vicenda per cui vorrei raccontarvi una barzelletta, io sono uno di quelli che le barzellette non se le ricorda mai ma in questo caso vado bene perché la barzelletta c'è scritta nell'annotazione dei carabinieri che hanno fatto alla procura, sì, la barzelletta, perché Cesare Rottolini viene incriminato, esattamente il capo di imputazione dice che si poneva davanti all'ingresso dell'abitazione impedendo l'accesso del custode giudiziario questo preso dall'annotazione dei carabinieri. Quando eravamo sul latrio che andava sull'appartamento e Cesare Rottolini si voleva impedire l'accesso l'appartamento sarebbe bastato in un'altra porta, quindi questa violenza privata mal si spiega la barzelletta continua perché i carabinieri in questa annotazione che ha dato luogo poi al procedimento lo accusano di aver detto falsamente che lui non aveva detto al custode giudiziario di uscire poi si legge il vero e sommare informazioni del custode giudiziario il custode giudiziario dice che era la signora eseguitata che gli ha detto di uscire dall'appartamento quindi è una barzelletta che però dopo si trasforma in un capo di imputazione cioè un pubblico ministero ci fa un avviso di concludere le indagini e quindi un capo di imputazione che anche questo a dire il vero ha qualcosa di singolare ecco, perché l'imputazione è violenza privata con l'aggravante di averla fatta contro un pubblico ufficiale che per i pochi strumenti giuridici che ho io, nonostante il lavoro che faccia è il reato di violenza o l'esistenza pubblica ufficiale cioè si deve spiegare la differenza c'è tra la violenza privata con l'aggravante di aver impedito l'atto del pubblico ufficiale e violenza o l'esistenza pubblica ufficiale quindi forse il pubblico ministero si è reso conto che questi fatti non erano poi così significativi fatto sta che ci troviamo di fronte a un procedimento e secondo me è questa ci credo quando dicevo ci dobbiamo divertire nel senso che potrebbe essere l'occasione per evidenziare, far vedere che in realtà chi è accusato di violenza è solo l'ultimo anello di una catena di soggetti che la violenza l'hanno subita cioè è proprio un paradosso io è da tanto che sono convinto che il mondo va al contrario comunque una catena di violenza che parte con l'esecuzione immobiliare è che per gli addetti ai lavori il soggetto esecutato o saltato solitamente è un soggetto inerme di fronte a questo mare, questo fiume in piena dove difendersi è quasi impossibile si cerca magari di procrastinare l'ulteriore violenza è proprio una violenza materiale che subisce l'esecuzionato, lo sfruttato nel momento in cui viene il custodio giudiziario l'ufficiale giudiziario la forza dell'ordine e anche quella forza ti butta fuori ecco qua siamo al terzo stadio della violenza cioè dove viene incriminato e repressa la rivendicazione pacifica ripeto non c'era nessun fatto di violenza o di minaccia viene incriminata la rivendicazione pacifica dei diritti e quindi la manifestazione del pensiero che forse è la forma più grave di violenza perché non posso neanche più pensare ed esprimere il mio pensiero quindi divertiamoci e prendiamo l'occasione lo dico perché non sono io l'imputato quindi io sono il testimone adesso scherzo prendiamola come occasione per questa vicenda per far risuonare prima di tutto all'interno del procedimento all'interno del processo come è giusto che sia soprattutto perché è affinché Cesare Ottolini è assolto per far risuonare quello in cui crediamo e che rivendichiamo e magari far risuonare la vicenda processuale e il suo buon esito non ho dubbi anche a livello mediatico come Unione Inquilini e con gli strumenti che ha l'Unione Inquilini per far sentire alta la voce di chi subisce violenza e rivendica almeno il diritto di esprimere e protestare e contestare contro questa violenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti